Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti in questo primo giorno di una nuova era, l'era post Gigio. Esiste un'era pre Gigio, un'era post Gigio, Gigio ovviamente Donnarumma, il grande portiere nostro nazionale e tra i principali artefici, i principali protagonisti di questa nostra splendida vittoria di ieri sera il campionato europeo di calcio, nonché nominato, appunto, votato come il miglior giocatore appunto di questo torneo che si è appena disputato. Quindi veramente c'è da fare i migliori complimenti a questo atleta così giovane e già così lanciato. Ad ogni modo torniamo alla nostra storia, quest'oggi vorrei appunto parlarvi di una chicca, di un aneddoto appunto relativo al nostro sportivissimo avversario all'Inghilterra appunto. Vorrei parlarvi della loro bandiera, la bandiera che hanno portato con tanto orgoglio, con tanta alterigia addirittura loro, gli inglesi, quelli del fair play a tutti i costi, vi basti sapere addirittura che nel corso della seconda guerra mondiale dal momento in cui i loro nemici tedeschi utilizzavano l'artiglieria antiaerea, i famosi FLAC FLAC appunto è una sigla tedesca che sta per artiglieria antiaerea, dava 88 mm, quindi canoni molto grossi, li utilizzavano appunto non più in chiave antiaerea ma in chiave anticarro, quindi ad alzo zero contro appunto i corazzati britannici, questi trovarono che la cosa era contro le convenzioni, inumana no, antisportiva. Ebbene loro con questa mentalità hanno pensato bene di cominciare la partita addirittura prima ancora dell'incontro appunto, hanno pensato bene di distruggere le nostre bandiere, bandiere italiane, di calpestarle, di sputarci sopra, mentre appunto la loro bandiera bianca con la croce di San Giorgio rossa nel centro, la tengono sempre in altissima considerazione, sto parlando appunto della bandiera dell'Inghilterra non quella del Regno Unito, la celbe Union Jack, attenzione a non fare confusione. Allora questa bandiera in realtà così onorata, così amata non è neanche la loro, perché questa era la bandiera della Repubblica di Genova, una delle grandi repubblica marinare appunto che c'erano in Italia, Genova, Venezia, Pise, Amalfi, le principali poi c'erano altre minori. E c'è da dire che appunto questa Repubblica di Genova era molto molto temuta, molto potente, possedeva moltissimi porti, molte chiamiamole colonie commerciali sparse per il Mediterraneo e per il Mar Nero, addirittura ne aveva in Crimea, di questo eventualmente parleremo perché la presenza appunto di colonie genovesi sul Mar Nero è legata allo sviluppo della peste nera in Europa, la famosa appunto grande epidemia della metà del 300. E dicevamo appunto, questi genovesi erano molto potenti, molto temuti, in particolare i loro balestrieri sono rimasti veramente famosissimi nella storia dei balestrieri genovesi per il loro grande destramento, per la loro precisione e la loro combattività. Ebbene, il re d'Inghilterra, siamo nel passare appunto con le sue navi per il Mediterraneo, temeva che però la sua flotta venisse aggredita, c'era una intensa attività specialmente piratesca di pirati nordafricani, così di pirati barbareschi, tunisini, algerini, ma non solo, appunto temeva comunque attacchi appunto alle sue navi. Così chiese, dietro pagamento ovviamente, quindi prendendolo praticamente in affitto, chiese al governo dell'epoca di Genova di poter utilizzare la loro bandiera, che è appunto una bandiera bianca con la croce di San Giorgio al centro, per poterla hissare sulle sue navi, farle credere genovesi e così appunto passare tranquillamente il Mediterraneo senza rischiare attacchi. Nessuno avrebbe mai attaccato una nave con la bandiera genovese innastata e quindi appunto il Red Inghilterra pensava appunto di tutelarsi in questo modo, tutelare le sue navi con questa stratagemma, che funzionava, era veramente funzionante, pagava regolarmente appunto le tasse, questa tassa chiamiamola appunto al governo genovese, il quale era chiaramente ben felice di poter rimpinguare le sue casse in questa maniera e questo appunto, questo scambio appunto di mutuo soccorso, diciamo così, le navi inglesi potevano utilizzare la bandiera genovese e i genovesi intascavano appunto una somma, andò avanti fino al 700, nel momento in cui la Repubblica di Genova cadde e venne presa dagli austriaci e quindi appunto gli inglesi pensarono bene in quel momento di, ok, visto il parapiglia smettiamo di pagare questa tassa, ormai la Repubblica già non esiste più, il debito è estinto, non abbiamo più a chi versare questa somma, ci teniamo la bandiera ovviamente. E beh, hanno fatto male i conti con la celebre, col celebre occhio per gli affari appunto, per non dire altro, dei nostri amici liguri e quindi appunto è notizia recente di pochissimo tempo fa, un paio di anni fa a dir tanto, che appunto il Comune di Genova ha richiesto alla regina Elisabetta II del Regno Unito appunto 300 anni di arretratti, hanno ripescato questa cosa e hanno detto aspetta, ma qua facciamoci due conti in tasca, questi inglesi continuano usare la nostra bandiera e senza appunto pagare i diritti, diciamo così, e quindi appunto si è ritornati a parlare di questo argomento, quindi gli inglesi potrebbero anche far senza tutta questa dose di spocchi e orgoglio per i loro colori, perché non sono neanche loro, anzi non solo non sono loro, ma sono addirittura degli a tanto odiate e vituperate Italia. Va bene, beh, poi sul fatto che comunque l'Inghilterra si è sempre stata molto devota a San Giorgio, questo è un altro discorso, però appunto i colori di San Giorgio erano sulla bandiera genovese, prima che su quella inglese, poi anche il Ducato di Milano aveva una bandiera di questo tipo male, questa è un'altra storia. Io vi ringrazio molto per l'attenzione, per questo breve video, vi aspetto appunto per la prossima puntata, vi auguro una buona serata e sempre Forza Azzurri ovviamente, e ciao, a presto!